Buonissimi 2002-2003, abbiamo qui le squadre di tutti e vi chiederei un grandissimo applauso per i partiti, questa partita che è stata dopo i casi di rigore, quindi la lotteria dei casi di rigore a oltranza ha deciso il vincitore, però sapete il calcio è così, in questo momento premiamo un primo di secondo. Si classificano, secondi assoluti, dicendo Football Cup, da Chieti la società Castel Treppone! A quei nostri ragazzi che vanno a ricevere la coppa e la medaglia, a ricordo di ogni partecipante. Ecco i nostri... Grazie a tutti!